Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io mentre stavo assaporando il mio bel limoncello di fine serata mi è arrivata una notifica che Logitech ha fatto uscire una Pro Series Pro Racing Well nuovo Direct Drive da 11 Nm allora, o sono caduto io dalla sedia e lo mi sono reso conto Logitech ragazzi finalmente presenta a questo punto appunto il suo Direct Drive, lo stiamo vedendo insieme, lo sto scoprendo insieme a voi proprio in questo momento qua compatibile con Playstation, Xbox e ovviamente anche con PC ovviamente le caratteristiche tecniche sono qua, le sto guardando insieme a voi e niente, sono quasi scioccato da questa notizia bella risposta con questo force feedback rivoluzionario, come dice, basata su 20 anni di esperienza non ho veramente avuto il tempo di potermi documentare, ho detto devo assolutamente condividere questa notizia magari voi la sapevate già con Lando Norris addirittura che ha recensito questo volante dicendo che trova un feeling particolarmente buono per questo Direct Drive ragazzi, nuova generazione per Logitech 1099 euro, eccolo qua per questo Direct Drive Logitech G Pro Racing Well Direct Drive professionale, come lo chiamano poi nuova pedaliera ragazzi vi faccio un'anteprima così perché sto veramente scoprendo la gamma Logitech quindi con anche una pedaliera a cella di carico sto guardando proprio in questo momento insieme a voi vediamo se ci sono specifiche tecniche pesa 5,02, eccetera però non parla di non parla di quello che è cella di carico o d'altro per il momento e per quanto riguarda il volante, la base che ci interessa di più praticamente ho letto su una storia su Instagram così sono capitato 11 Nm non ne so di più ragazzi volevo solo condividere questa cosa magari voi lo sapevate se avete più dettagli e specifiche in ogni caso anche se dovesse essere un entry level perché poi bisogna vedere le caratteristiche eccetera se è un 11 Nm dovrebbe essere quello compatibile con Xbox con Playstation e PC ovviamente è un grande colpo di mercato per Logitech che già ha la sua schiera di clienti fedeli per un prezzo dove c'è la corona compresa a 1099€ non lo so tutto da valutare ragazzi però ammazza ragazzi che botta stasera vabbè io continuo a bermi il mio limoncello ragazzi se questa notizia bomba che probabilmente sono io che non l'avevo vista non lo sapevo vi è piaciuto lasciate un pollice in su non esitate a commentare qua sotto ditemi cosa ne pensate magari avete notizie chicche eccetera eccetera che poi sarà modo per poter fare altri video non esitate qua sotto iscrivetevi al canale tante gratuito ragazzi pro rising well della Logitech novità assoluta noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao grazie a tutti